Buonasera da Rai Parlamento e benvenuti alle nostre interviste ai rappresentanti dei partiti eletti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo. Interviste con le quali si chiude questa prima fase di tribune politiche in vista delle elezioni europee del prossimo 26 maggio. Ricordiamo ai telespettatori che le interviste della durata di 5 minuti ciascuna sono state registrate. Sono Antonio Preziosi e saluto anche chi ci segue attraverso la radio. Cinque i rappresentanti politici ospiti di questa sera. Iniziamo con l'onorevole Giorgia Meloni, presidente del partito Fratelli d'Italia. Buonasera onorevole Meloni. Dunque lo slogan della sua campagna elettorale è in Europa per cambiare tutto. È solo uno slogan o pensa davvero che di questa Europa non si debba salvare nulla? Penso davvero che di questa Europa non si debba salvare nulla. Questa Europa è un comitato d'affari in cui si scrivono regole delle quali beneficiano solamente alcune nazioni. Il nostro modello è quello di una confederazione di stati sovrani che mantengono il proprio diritto di scegliere sulle materie più vicine ai cittadini e che magari cooperano sulle grandi materie, dalla politica estera al mercato unico, cioè l'esatto contrario di quello che fa oggi l'Unione Europea. Ieri a Torino lei ha detto a Salvini che le alleanze si fanno prima del voto e non dopo. Significa che rimarrete divisi a Bruxelles anche dopo il 26 di maggio? Spero di no. Noi lavoriamo a una maggioranza diversa che vada dagli attuali popolari, speriamo sempre più vicini a Vittor Orbán, alle posizioni del presidente ungherese, fino al gruppo di Salvini e Le Pen, passando per il nostro gruppo, che è quello fondamentale, dei sovranisti e conservatori europei. Io dico semplicemente che quando si dice le alleanze si fanno dopo il voto, l'idea che poi magari in Europa si voglia riportare il modello di quello che è accaduto in Italia, non è una cosa che mi sento di esportare in Europa, perché il contratto di governo ha già paralizzato l'Italia, non sarebbe bello se paralizzasse anche l'Europa. Ieri però lei ha anche attaccato Forza Italia, in particolare la scelta di ricandidare Tajani alla presidenza del Parlamento europeo. Fine di una possibile alleanza o ricerca di consensi nel campo di centrodestra moderato? No, guardi, io non ho attaccato nessuno. Io in Europa vado a cambiare tutto. E piaccia o no, Tajani è stato il presidente del Parlamento europeo di questa maggioranza, che era un inciucio tra i popolari e i socialisti. Un europatto del Nazareno, mettiamola così. Io non sogno di avere domani di nuovo al governo dell'Unione europea i socialisti e i popolari. Sogno di costruire un'altra maggioranza e spero che il prossimo presidente del Parlamento europeo, che può benissimo essere italiano anche se non è Antonio Tajani, sia espressione magari dei sovranisti e dei conservatori piuttosto che del Partito Popolare europeo. Non vuol dire attaccare nessuno, vuol dire avere in testa un altro modello. Tornando a Salvini, condivide le sue critiche all'operato del sindaco di Roma Virginia Raggi? Condivido assolutamente le critiche di Salvini al sindaco di Roma. Il sindaco di Roma assolutamente non era pronto per ricoprire questo prestigioso, difficilissimo incarico. Però non sono d'accordo quando Salvini dice che il problema di Roma non è avere maggiori risorse, perché se dessimo i soldi a Roma dovremmo darli a tutte le altre città. Roma è la capitale d'Italia. Non può essere trattata come un qualunque altro comune d'Italia. Lei ha anche proposto che diventi la capitale europea. Era una provocazione a Bruxelles o ci crede davvero? Ci credo davvero. Penso che il problema di questa Europa sia anche che non ha un'anima. e penso che anche sul piano simbolico la capitale d'Europa non dovrebbe essere il luogo più comodo dove mettere gli uffici, ma il luogo che rappresenta meglio millenni di storie e di civiltà. E Roma sicuramente sul piano simbolico è la capitale d'Europa. Veniamo all'economia. Reddito di cittadinanza e flat tax sono la ricetta giusta per far ripartire l'economia in Italia? Reddito di cittadinanza assolutamente no. Il reddito di cittadinanza non produce lavoro, crea una serie di discriminazioni e soprattutto vuol dire buttare miliardi di euro per dare la paghetta ai Roma, agli immigrati, agli abusivi, ai condannati, tutte categorie che prenderanno il reddito di cittadinanza quando invece magari le persone incensurate non lo prendono. Credo invece che sia la flat tax, credo che sia la tassa piatta, credo che sia un volano per l'economia. Purtroppo questo governo discute e discute ma boccia tutte le proposte che Fratelli d'Italia porta in aula su questo tema. Cosa si sente di dire agli italiani che lavorano in Gran Bretagna e che temono per il loro futuro nel dopo Brexit? Mi sento di dire che lo Stato italiano in ogni caso farà del suo meglio per difenderli, per aiutarli e speriamo di costruire soprattutto le condizioni per cui i tanti giovani italiani che anche lo scorso anno hanno dovuto lasciare la madrepatria perché qui non ci sono opportunità e possano tornare in patria perché non ha molto senso una nazione che si occupa di far arrivare gli africani in Italia e non di permettere che gli italiani rimangano in Italia o che si occupa più dei migranti che degli emigrati. E sui migranti cosa deve fare Bruxelles? Sui migranti Bruxelles deve fare due cose. Un blocco navale a largo delle coste della Libia trattando con i governi libici è quello che secondo me manca nella politica migratoria del governo perché è l'unico modo per fermare davvero le partenze dei barconi. Su questa proposta io ho già il consenso della Polonia e dell'Ungheria e deve uscire complessivamente dal Global Compact sulle emigrazioni, dal documento delle Nazioni Unite che vuole stabilire l'immigrazione come diritto fondamentale degli esseri umani. Chiudiamo sempre le nostre interviste con lo slogan personale dei leader ospiti nel nostro studio. Qual è il suo? Con noi in Europa torneranno a rispettare l'Italia perché conosceranno una classe politica di italiani che camminano a testa alta, che non si vendono per una poltrona e che sanno di cosa stanno parlando. Ringraziamo l'onorevole Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Noi vi aspettiamo tra poco per la prossima intervista.